Si è da poco concluso il varo dei calendari. Andiamo a dare uno sguardo alla prima giornata. La Pescara affronterà in casa, ospiterà l'Ancona Matelica dal tecnico Colavitto. Il Teramo invece sarà di scena sul campo della Virtus Entella. Tutte le partite tra il 27 e il 30 agosto prossimi. Cesena Gubbio, Fermana, Viterbese, Grosseto, Modena, Imolese, Lucchese, Olbia. E poi c'è una X come vedete in attesa del ricorso presentato dal Fano al Collegio di Garanzia del Coni che si pronuncerà domani. In caso di bocciatura la Pistoiese sarà la ventesima squadra del girone B. Poi Pescara ancora Matelica, Pontedera, Carrarese, Reggiana, Aquila, Montevarchi, Siena, Vis, Pesaro e Virtus Entella Teramo. Vediamo la seconda giornata con il Pescara che sarà di scena invece sul campo della Carrarese, il cui DS è un ex del Pescara, Vincenzo Minguzzi. Mentre il Teramo ospiterà il Siena che è stato ripescato, Ancona Matelica, Olbia, Aquila, Montevarchi, Virtus Entella, Carrarese, Pescara, Gubbio, Fermana, Lucchese, Cesena, Modena, Reggiana, Teramo, Siena, Vis, Pesaro, Pontedera, Viterbese, Imolese. Poi la X, domani vedremo contro il Grosseto. Terza giornata Pescara, Vis, Pesaro, Modena, Teramo. Quarta giornata invece la Pescara sarà di scena sul campo della neopromossa Montevarchi. Il Teramo ospiterà la Vis, Pesaro. Quinta giornata Pescara, Viterbese, Teramo, Imolese, dunque entrambe in casa. Il derby Pescara-Teramo alla quattordicesima giornata il 14 novembre 2021. Il ritorno naturalmente al Bonolis di Teramo il 20 marzo 2022. Per quanto riguarda invece la Coppa Italia, è stato anche ufficializzato il primo turno, ovvero il Pescara, che sfiderà l'Olbia di Massimiliano Canzi allo Stadio Adriatico sabato 21 agosto. Il Teramo ospiterà invece il Monterosi. Nell'Olbia ricordiamo l'ex Andrea Cocco, ma c'è anche Manuel Giandonato che ha giocato nelle giovanili nel 2004-2005 abruzzese di Casoli. La vincente affronterà successivamente in casa una tra Grosseto e Campobasso, mercoledì 15 settembre, mentre la vincente tra Teramo e Monterosi, in caso di passaggio del turno, sfiderà la vincente tra Viterbese e Gubbio. Ricordiamo, gara secca in caso di parità, tempi supplementari e calci di rigore. Chiudiamo con il mercato del Pescara. Abbiamo già dato la notizia delle due operazioni in uscita definite in mattinata, vale a dire Borrelli in prestito al Monopoli, mentre Belloni sempre con la stessa formula, prestito secco al Limolese, che è stata inclusa nel giornale B, dunque ci sarà l'incrocio con il Pescara, è saltato invece, sembrava fatta, il trasferimento in prestito di Di Grazia al Foggia, invece è saltato il trasferimento dell'esterno classe 1996. Eccola qui, la rosa del Pescara, perché sono state fatte tante operazioni, fino a questo momento un mercato all'insegna della rivoluzione, sono 11 le operazioni in entrata, compresa quella che sarà ufficializzata domani con l'arrivo di Ingrosso di Fezzone Centrale, classe 1989, percorso inverso per Sec, attaccante promettente, che si è messo in luce nella primavera di Iervese, classe 2004. Dunque le entrate, finora Zappella, Cancellotti, Ianes, Rasi, Pompetti, Ferrari, Dursi, De Marchi, Frascatore, Marilungo e Ingrosso, le uscite Scognamiglio, Masciangelo, Crecco, Bunino, Sorensen, Fiorillo, Elisalde e appunto Borrelli e Belloni.